Ti sto sbagliando, chi hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa, che aspetta a me, non è Francesca. Se c'è un uomo, non lo può essere. Francesca non ha chiesto di più, ti sto guardando se c'è, non sei tu, Francesca non ha chiesto di più. Perché, mi viene da me. Come quell'altra è bionda, però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se c'è un uomo, non lo può essere. Francesca non ha chiesto di più, chi sta sbagliando se c'è, non sei tu. Francesca non ha chiesto di più. Perché, mi viene da me. Mi viene da me. Mi viene da me. Ho, ho ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti.